Il tuo servizio Uccidetelo Dov'è finito? Cosa è stato? Il tuo servizio Il tuo servizio Tradito da Vader per l'ultima volta Un nuovo viaggio a inizio. Ho qualcosa per cui combattere. Qualcuno per cui morire. E non mi fermerò. Non avrò pace. Vedder non può fermar. Vedder non può fermare. 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 Veder non può fermarmi. Nessunovor. 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 Nessunovor.